ciao eccomi qua ritornato con un nuovo video questa volta vi volevo far vedere un outfit molto casual ma niente iniziamo subito vi faccio vedere il primo pezzo allora come per vestirmi ho deciso di usare questo cardigan di colore grigio molto chiaro ed è un cardigan secondo me molto particolare rispetto ai soliti normali tipo ad esempio come questo poco su nero ma questo qui diciamo la particolarità che ha è appunto questo collo come potete vedere molto ampio alto e poi in più a questi fili che servono appunto per stringere il collo e per farlo arricciato che è una cosa magari che in altri maioni non si vede molto spesso poi come secondo pezzo sotto da mettere sotto appunto il cardigan ho scelto questa camicia a maniche corte anche se inverno lo so però vabbè sotto un maione ci può anche stare una camicia a maniche corte ed è di questo colore fucsia a quadretti e oltre al fucsia c'è dentro un po di verde un po di blu insomma un colori un po misti che secondo me stanno bene sul grigio e in più questa camicia ha una bordatura di jeans qua sulle maniche e anche qua all'interno dove ci sono i bottoni e in più una cosa diciamo un po strano un po diversa dal solito sono appunto questi bottoni come vedete che sono grigi che sono fatti a clip poi come pantaloni ho scelto questi qua di jeans un po scoloriti e in fondo hanno una gamba abbastanza stretta che mi piace molto che vanno in questo periodo e in più dietro hanno queste tasche molto ampie con una cucitura qua sotto abbastanza grossa poi come accessori ho scelto questa cintura che di cavalli colore nero con la fibbia sul sul dorato come scarpe invece ho deciso di abbinare queste all star tutte bianche di pelle bianca vedete sono tutti bianche a me piacciono molto lo star anche se ogni tanto mi fanno un po male i piedi devo mettere sempre le suolette ma visto che adesso siamo in inverno metto su queste suolette qui che sono di lana sotto così tengono caldo il piede e poi per finire metto su questo profumo che della planter si può trovare in farmacia anche questo è unisex come profumo ed è molto fresco niente anche per oggi ho finito e niente al prossimo video allora ciao 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 Grazie per la visione!